salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi ci troviamo all'interno di un audi a3 una 8v e vi farò vedere come con una spesa minima si può aprire il portellone posteriore grazie a delle piccole molle comprate su internet all'interno della descrizione del video vi metterò un link dove poter acquistare queste molle adesso vi farò vedere come all'apertura del cofano si aprirà in automatico il portellone ecco qua vedete per fare ciò abbiamo comprato queste molle su ebay questa coppia di molle su ebay così che ci permette al portellone di aprire il segno automatico questa funzione qua è valida solo per l'apertura del cofano e quando guarda la chiusura è sempre manuale per riaprire nuovamente sia la molla del pistone di sinistra e sia la molla del pistone di destra neanche l'installazione è abbastanza facile per quanto riguarda l'installazione in modo di tutto è molto semplice bisogna togliere questa questo fermo che qui vicino qua sganciare questo fermo e si toglie il pistone sia quello di sopra che così anche quello di sotto eccolo qua sganciare il fermo e si toglie il pistone così a sinistra e così a destra una volta smontato il pistone mettiamo questo lo stelo in una morsa se mai lo ci mettete non sono uno straccio un qualcosa che non fa graffiare lo stelo e con un poco di forza anche con una pinta se non c'è la parte da smontare la testa che è avvitata sul pistone una volta smontata la testa mettete la molla all'interno che è dotata di questo gommino e ritornate ad avvitare nuovamente il pistone la testa sopra lo stilo così a sinistra così anche a destra una volta fatto ciò rimontate il pistone al suo posto mi raccomando quando fate questa operazione qua vi consiglio di essere in due perché il momento in cui già togliete il pistone di sinistro e lo smontate il portellone si abbassa che comunque abbastanza pesante quindi vi dovete mettere 2 1 che mantiene il portellone mantiene alzato e l'altro che smonta il pistone sia quello di sinistra e quello di destra dopo fatto ciò chiudete il pistone del cofano fate il lavoro su tutti i pistoncini e rimontate tutto una volta montato tutto il lavoro che andiamo a vedere è questo qua che nel momento in cui anche dal distante andiamo aprire il cofano si apre il portellone così che se abbiamo con le mani occupate abbiamo una qualsiasi pacca in mano e dobbiamo riporre all'interno della macchina e comunque non abbiamo la possibilità di andare vicino alla macchina del portellone con questa queste coppie di molle ci aiuta la facilità del carico posteriore una volta avevo stato tutto andiamo a chiudere così con le mani perfetto ragazzi per oggi è tutto spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto iscriviti al canale e attivate la campanella ciao ragazzi al prossimo video